La prima cosa che l'Anci ha chiesto al nuovo governo regionale era di ripristinare quelle risorse per i fondi del sociale. Oggi è una giornata importante, ci sarà da correre perché con i nuovi criteri che sono stati dati e i tempi molto ristretti legati all'assestamento dei comuni, però sono molto positivo. C'è disponibilità e soprattutto ci sono le risorse, cosa che non era affatto scontata perché a giugno ne mancavano 33 milioni di euro su 34.